Dai dati della depurazione in Abruzzo, analizzati da Arta nel 2016 e nel primo semestre del 2017, emerge un quadro sconfortante con il 63% degli impianti fuori norma almeno una volta. Forum dell'acqua, nuovo senso civico e stazione ornitologica abruzzese non esitano a definire il report da disastro ambientale. I dati si riferiscono ai report riassuntivi sui controlli effettuati sugli agglomerati con oltre 2.000 abitanti, anche se l'Abruzzo tratta la quasi totalità del carico complessivo degli scarichi, visto che solo il 3,6% non riceve trattamento, scrivono le associazioni ambientaliste, il problema è che i reflui spesso ricevono un trattamento inefficiente. Nel 2016 sono stati 578 i controlli, di cui quasi la metà, 244, nella provincia di Teramo. Complessivamente il 27% dei controlli ha rilevato superamenti dei limiti tabellari, poiché alcuni impianti sono stati controllati più volte, scrivono ancora gli ambientalisti, il dato clamoroso è quello degli impianti che hanno almeno avuto un superamento, ben il 63%. I parametri più critici sono quelli legati all'eschericacoli, al BOD5 e all'azoto ammoniacale. Nel primo semestre 2017 i dati sono sostanzialmente paragonabili al 2016, con il 27% dei 318 controlli con superamento dei limiti. Dunque anche i primi dati dello scorso anno non lasciano presagire nulla di buono, mentre per il terzo trimestre del 2017 Arta ha pubblicato solo le tabelle per l'Aquila e Teramo, che restituiscono situazioni pesanti soprattutto in alcuni piccoli comuni di aree ed enorme pregio ambientale e turistico. Forum dell'Acqua, Nuovo Senso Civico e Stazione Ornitologica abruzzese plaudono comunque la pubblicazione dei report da parte dell'Arta, ma chiedono d'altro canto interventi che migliorino sensibilmente la gestione della depurazione in regione, che incide sulla qualità dell'ambiente anche in zone protette come i parchi nazionali del Gran Sasso e della Maiella.